Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come usare Chat Engine con un emulatore per Windows. I passi da eseguire sono due. Configurare Chat Engine, usare Chat Engine per trovare ricette del gioco di nostro interesse. Nella sezione Settings, controlliamo che i parametri in Extra e Scan Settings siano impostati come indicato. Questo servirà per attivare la possibilità di effettuare la scansione sull'intera area di memoria. Iniziamo a cercare il chat per il nostro gioco. Il valore che prendiamo ad esempio è 291. Inseriamo questo valore in Chat Engine e avviamo la scansione. Adesso carichiamo un altro salvataggio in cui il valore è diverso da 291. In questo caso il nuovo valore è 223. Inseriamolo in Chat Engine e avviamo di nuovo la scansione. Carichiamo un altro salvataggio dove il valore è diverso da 223. In questo caso è 202. Inseriamo il chat Engine e proseguiamo la scansione. Abbiamo trovato un po' di valori. Cerchiamo l'indirizzo corretto. Questo non è in quanto non ha modificato nulla. Proviamo quest'altra coppia dei valori. Nemmeno in questo caso abbiamo avuto alcun risultato. Proviamo le altre due. Qui possiamo vedere già il valore modificato. In alcuni casi quello che abbiamo già fatto risulta essere sufficiente. Ma non in questo caso, in quanto gli HP tonerebbero non male non appena saliremmo di livello. Per questo motivo cerchiamo in un'area di memoria vicina a quella trovata, gli indirizzi dove è possibile trovare le statistiche del nostro personaggio. Spesso infatti in questi giochi gli indirizzi si trovano vicini tra loro. Questo è uno dei casi fortunati. I valori che sto indicando sono tutti quelli della forza dei nostri personaggi. Modifichiamoli. E vediamo come sono cambiati. Portiamo la forza di tutti i personaggi a 255. Come potete vedere la forza di Kain è 259, non 255. A causa di potenziamenti dovuti agli equipaggiamenti. Se avessimo tolto tutti gli equipaggiamenti è molto probabile che avremmo potuto utilizzare direttamente il valore della forza. Tuttavia ho voluto procedere in questo modo a scopo dimostrativo per mostrare le potenzialità di chat engine, che non è solo ricerca dell'indirizzo. Ho appena salvato il gioco per mostrare che ai caricamenti non saranno perdute le modifiche. Come vedete sono rimasti i valori modificati in precedenza. Cerchiamo qualche mostro da uccidere per vedere gli effetti della nostra modifica. Bello, vero? Però non esagerate con le modifiche, altrimenti vedete il gusto del gioco. Grazie. 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 Grazie.